buona salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video se ancora non ci conosciamo piacere io sono Shanti altrimenti bentornati e bentornati in un video un po' particolare un pochino diverso dal solito rispetto a quelli che normalmente faccio su questo canale però come avete notato sto cercando di andare in una direzione non so come dire più lifestyle più personale nel senso ovviamente questo canale dedicato alla crescita personale però per me crescita personale significa anche questo significa anche creatività e significa anche work life balance nel senso che mi sono resa conto che faccio molta fatica a trovare un equilibrio tra il lavorare troppo o non lavorare per niente o ritagliarmi dei momenti di riposo che non siano passati a scrollare instagram però a fare qualcosa che veramente mi nutra e quindi niente ho deciso di passare un pomeriggio dipingendo magari l'avrete già visto nel self care day che è uscito qualche settimana fa e ho deciso di condividere questa cosa con voi è strano perché cioè io non dipingevo da tantissimo tempo non è che io sia bravissima è semplicemente per farvi vedere che si può fare qualcosa anche senza essere bravissimi sono cercando anche di andare un pochino oltre le mie manie di perfezionismo e niente di godermi il processo allora qua io mi sono ispirata alla foto di una fotografa che seguo su instagram che mi piace tantissimo ovviamente cioè è un'ispirazione non è non mi sono detta deve venire identico cioè per me il bello di dipingere è proprio questo è un vedo un'immagine e cerco di ricrearla un po' come la vedo io e mi sono resa conto facendo il quadretto che ho fatto per il compleanno di mio padre che magari avete visto su instagram o nei video passati che mi piace proprio questa cosa di non fare le cose necessariamente perfette forse è anche questo l'aspetto interessante il fatto che tendo a cercare la perfezione in tutto e avere finalmente dei momenti dove posso non essere perfetta e fare non dico pennellate a caso però sono pennellate più magari all'inizio non si vede perché all'inizio sto tipo piazzando i colori cercando di capire come fare le cose però vedrete anche dopo è più un seguire l'istinto sono pennellate istintive del tipo sento che lì c'è del giallo anche se non vedo del giallo e allora ce lo metto qualcosa di questo tipo e ho scelto anche questa immagine perché mi fa sentire tipo primaverile e libera e è forse la cosa che vorrei in questo momento perché quando ho registrato questo video eravamo ancora bloccati in casa o comunque limitati è stato bello ritrovare queste sensazioni almeno su tela visto che nella realtà non si poteva ancora non so bene come si facciano questi paint with me non so se devo guidarvi e spiegarvi che cosa sto facendo o se posso chiacchierare di quello che mi pare in realtà non penso che esistano regole cioè sono io che decido che cosa fare è che non so se può interessarvi diciamo una spiegazione di quello che sto facendo anche perché in realtà io appunto non ho mai studiato vado molto proprio a istinto una cosa che volevo dirvi però è che questi colori non mi convincono ce li ha tantissimo quindi non chiedetemi dove li ho presi perché ce li ha veramente da un'eternità però mi piacerebbe tantissimo provare con i colori a olio e anzi se avete consigli di marche eccetera perché io proprio parto da zero perché ho l'impressione che cioè mi piace poter continuare a lavorare con i colori anche su più giorni ad esempio il quadro che vedete oggi questa è la prima parte poi ne vedete in una seconda che è stata registrata qualche giorno dopo perché ero convinta che ci avrei messo un pomeriggio in realtà ci ho messo un pochino di più e mi piace l'idea di poter lavorare con i colori su più giorni e so che i colori a olio cioè puoi continuare a rimestarli quanto vuoi sono molto più coprenti sono più luminosi cioè mi ci vedo di più a lavorare con l'olio non lo so anche se non saprei proprio da che parte partire quali sono anche tutti i materiali da usare perché so che è molto diverso e che quelli di qualità tipo puzzano quindi sarà felice Alberto di avere dei colori ad olio in casa comunque come vedete appunto il primo giorno ho semplicemente piazzato i colori poi cominciavo a farmi un pochino un'idea delle ombre delle forme però anche qua cioè senza perfezione semplicemente ho buttato giù ho cercato di creare una base su cui poi ho lavorato in modo un pochino più preciso poi e mi divertiva proprio questa cosa di dire sai cosa anche se voglio mettere un colore che nell'immagine originale non c'è posso farlo e secondo me questo dà subito qualcosa in più perché siccome quando vedete quadri di persone veramente brave ho l'impressione che ci siano delle cose inaspettate tipo delle pennellate che non ti aspetti o dei colori che normalmente non vedresti lì oppure pensando alla pelle uno pensa vabbè la pelle almeno la mia è di quel colore lì quindi perché metterci dentro del blu del giallo cose che normalmente non ci metteresti ma secondo me tipo non so so chi mette verde blu per le venature cose di questo tipo che fanno sembra tutto più reale non che fosse necessariamente il mio obiettivo non so dove sto andando a parare è un periodo molto intenso perché la quarantena mi ha portata un po lontano dal lavoro e dalle cose che volevo fare in questa bolla di cui ve l'avevo già parlato e poi abbiamo deciso di nuovo diciamo come procedere nuovi obiettivi abbiamo cercato di tornare alla realtà e siamo passati dalla bolla al super mega lavoro anche perché ho una consegna super importante per fine giugno è stato tutto un fare 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 e quindi c'era bisogno avevo veramente bisogno di prendermi un attimo per il bello di stare in balcone a dipingere proprio che non hai nient'altro a cui pensare se non l'immagine che hai davanti e trovo che sia una forma di meditazione perché in qualche modo smetti anche di pensare io non mi ricordo di aver pensato cose particolari mentre dipingevo era talmente concentrata sui colori da mettere eccetera che era proprio uno stato di quiete e quindi se non lo so vorreste meditare ma non ci riuscite provate a dipingere secondo me potrebbe essere un ottimo inizio ed eccoci a un nuovo giorno mi sono spostata sul tappeto in sala ed era bello perché c'era la luce che entrava dalla finestra ma le tede non riuscivano a coprirlo perfettamente quindi c'erano tutti questi giochi di luce che trovavo molto carini e molto poetici comunque questa nuova posizione mi ha fatto un po male al collo e alla schiena però devo dire che era interessante avere questa prospettiva diversa rispetto alla tela ed essere più vicina e potermi dedicare ai dettagli perché appunto quello che ho fatto il primo giorno è stato piazzare i colori piazzare le forme e poi mi son detta ok adesso parte per parte devo fare il definitivo in qualche modo sono andata ad aggiungere le ombre tra l'altro oltre alle tempere credo che siano tempere ho aggiunto gli acquarelli perché non ho il nero in tempera e quindi usavo quello degli acquarelli che non è necessariamente il massimo veniva un effetto un po strano però me lo sono fatta andare bene e alla fine non è venuto così male ho provato a usare semplicemente gli acquarelli ma non riesco a ottenere tipo tutti i risultati fighissimi che vedete fare dalle altre persone online e quindi ci avevo un po rinunciato probabilmente questi non sono neanche degli acquarelli particolarmente di qualità non lo so ci devo riprovare ci devo riprovare perché in realtà è un mezzo che mi affascina però continuo a preferire l'idea della pittura d'olio sapete siamo in una società dove ho l'impressione che tutto quello che si fa e che prima diciamo era un hobby fine a si stesso tutti ormai ti dicono ah cavolo sei bravo a fare quella cosa perché non provi a venderla o è comunque tutto sempre rivolto a un essere produttivo a monetizzare qualsiasi cosa e secondo me questo è un po un peccato perché come se gli hobby non esistessero più e tutto dovesse diventare necessariamente un lavoro cioè è stato strano perché mesi fa una ragazza mi ha scritto dicendomi ho visto in un video vecchio che dipingevi un quadro te lo posso comprare e in realtà è stata super carina poi non mi ha risposto questo non l'ho tanto capito però è strano perché è come se tutto fosse in ottica della compravendita sempre quando in realtà sto riscoprendo il piacere di fare le cose per il semplice gusto di farle è strano perché ti sembra tipo di perdere del tempo se non sei abituato perché ti dici ok questa cosa mi fa stare bene è piacevole sul momento ma che cosa mi porta come se tutto debba sempre mirare a uno scopo che in genere sono i soldi non il piacere stesso non il godersi la vita fine a se stessa no come cosa è un peccato ed è una cosa che sto cercando di ritrovare ma non è facile perché non lo so penso di essere proprio di avere il cervello che si è abituato in quella direzione lì provateci a chiedervi più spesso perché secondo me è una domanda che non ci facciamo abbastanza nel senso provate mai a ragionare sul perché fate veramente le cose che fate cos'è che vi motiva veramente qual è il vostro scopo ultimo l'emozione che vorreste raggiungere alla fine perché siccome spesso siamo motivati in realtà da valori sbagliati o da motivazioni esterne che sia perché la società ti ha spinto a credere che vuoi una cosa che in realtà non vuoi o magari vuoi fare una cosa per soddisfare qualcuno o in generale aspettative tue o degli altri che non necessariamente sono le cose che poi ti renderanno veramente felice quindi siccome perché è una domanda che non ci facciamo abbastanza spesso e che forse dovremmo imparare a chiederci di più detto questo come vedete sto avanzando e sono passata a dipingere i visi che sono sempre la parte più difficile non sono super soddisfatta di come sono venuti alla fine però insomma vedrete infatti mi sono soffermata molto di più sui corpi sui vestiti li trovavo più facili più divertenti mi davano più soddisfazione perché mi sembrava come come se rispondessero meglio alle mie aspettative anche se il pezzo di sotto della ragazza di destra mi ha dato qualche difficoltà però però sì cioè è stato più bello è stato più facile devo provare a fare corpi senza facce oppure fare soltanto facce tipo una faccia mega grande non lo so non so quale sarà la prossima cosa che proverò a dipingere non ho più tele credo quindi devo devo capire come fare se comprarne di nuove che cosa fare cioè anche tipo con questo qua cioè io non so se alberto è felice di vedere queste due fanciulle appesa da qualche parte in casa o se non lo so il dipingere raggiunge il suo scopo una volta che il quadro è finito e posso nasconderlo in cantina o farlo bruciare tra le fiamme sinceramente non lo so proprio stavo cercando di sistemare un po le ombre però con il fatto di che stavo usando il nero degli acquarelli secondo me è venuto un po un casino perché era tipo caldo freddo troppo bagnato troppo grigio insomma qua devo mi sa che me la devo studiare un pochino meglio anche per fare i capelli ho dovuto miscolare il mio marrone con quello strano nero e non lo so cioè è stato da un lato interessante combinare più tecniche dall'altro forse non era proprio il massimo e quella faccia la faccia di destra cioè ho l'impressione che o la sua testa è veramente enorme o è l'altra testa che è troppo piccola non riesco ancora a capirlo in realtà mi piace tanto fare i visi perché mi piace lavorare con i colori della pelle delle guance eccetera però forse è proprio la testa rispetto al corpo cioè se fossero prese separate dal corpo forse avrebbero funzionato meglio e sto aggiungendo niente tanti piccoli dettagli dicono che si capisca quando un quadro è finito perché lo guardi e non senti dover aggiungere più nulla in realtà io continuavo a voler aggiungere cose e quindi sono passata alla parte finale che è quella del verde e dei fiori che purtroppo è quella che in realtà mi è piaciuta meno cioè i fiori tenuti in mano dalle due ragazze sì però la parte sotto ho l'impressione che è stata fatta un po' boh non sembra veramente dell'erba o non lo so c'è qualcosa che non mi ha convinta ho quasi avuto l'impressione di aver rovinato un po' tutto comunque questo è il risultato finito non mi piace tantissimo la faccia della ragazza a destra perché secondo me è venuta troppo grande e quella a sinistra non è perfetta però mi piace di più la sua espressione sembra così in pace un po' la invidio sono contenta mi piacciono i corpi l'erba non è venuta esattamente come speravo però in generale mi piace il mood e è stato bello farlo quindi è importante per me ricordarmi che non l'ho fatto affinché fosse perfetto o l'ho fatto per il processo per essere stata bene in quelle ore passate tra i colori spero abbia fatto piacere anche a voi a fare questo piccolo tuffo in questo pomeriggio di pace grazie per la visione e noi ci vediamo un prossimo video una magica giornata a tutti ciao